Salve, vi torno a parlare di un argomento un po' diverso dal solito, quindi non più di carattere scientifico o comunque di opinioni personali come ho fatto in precedenza, ma vi parlo di questioni riguardanti il territorio da cui provengo, vale a dire la Spezia e il Golfo della Spezia. Il motivo è principalmente perché a causa di queste restrizioni a cui siamo tutti costretti, essendo impossibilitato di tornare a casa non posso girare un video come ero abituato a fare in questo periodo in cui avevo l'opportunità di tornare a casa, in cui potevo parlare di qualcosa di più attinente, appunto il Golfo della Spezia, essendo in loco. Questa volta invece lo farò a distanza, diciamo così, in maniera remota e oltretutto ho ripreso in mano un documento che lessi diversi anni fa, che si chiama Storia del Golfo della Spezia, un documento che è rimasto diciamo inedito per molto tempo, risale alla fine dell'Ottocento ed è ad opera di Ubaldo Mazzini, che è stato un grande intellettuale, non so se archeologo o antropologo, ma in ogni caso studioso di storia, anche ha fatto degli importanti lavori di ricerca e di ricostruzione storica per quanto riguarda il Golfo della Spezia e quindi è stato ritrovato questo documento, per così dire, tra gli vari scritti di Mazzini e inizialmente non si sapeva di chi fosse. Per cui io vi voglio riproporre alcuni contenuti di questo documento e inquadrarli all'interno di un contesto più ampio che è quello degli studi storici, diciamo così, culturali, caratteristici diciamo della Spezia e del Golfo. Un'altra ragione per cui sto facendo questi video è che ho notato di recente che c'è un'iniziativa che mi va di sopportare e che apprezzo molto da parte del liceo scientifico Pacinotti della Spezia, dove io ho studiato, in particolare da parte del mio ex professore di lettere Roberto Centi, che sta realizzando dei video sulla storia del Golfo della Spezia, alcune particolarità del territorio e lo sta facendo affrontandolo dal punto di vista della letteratura, quindi da parte di leggendo degli testi di autori classici, alcuni addirittura greci o romani, quindi risalenti a molti secoli fa, addirittura millenni fa, che danno appunto testimonianza della grandezza o comunque della fama del Golfo e del nostro territorio a partire da tempi molto antichi. Io non avendo la sua competenza, non avendo la sua conoscenza di fonti storiche e letterarie, lo farò solo attraverso questo documento che ho trovato. Tra l'altro questo documento io vi leggerò dei passi, proprio perché possiate apprezzare il tipo di informazioni che sono qui contenute, ma vi lascerò anche un link, una cartella condivisa in cui lo potete trovare e inoltre lo potete trovare anche sul sito ufficiale dell'Accademia Lunigenese di Scienze Giovanni Cappellini, che raccoglie una serie di documenti che riguardano appunto gli studi sul territorio, in particolare l'istoria, di folklore, anche archeologia, geologia soprattutto. Ecco, a tal proposito io nel passato, ormai più di un anno fa, avevo parlato di geologia del Golfo della Spezia e questo argomento mi aveva interessato molto, infatti c'era anche una certa quantità di materiale disponibile, alcune parti di questo materiale è anche opera di Giovanni Cappellini, che è stato un grande geologo e un personaggio di grande rilievo nel periodo, diciamo, di fine Ottocento e a lui è intitolata appunto l'Accademia. Ma senza esitare oltre, quindi come dico di solito, vando alle ciance, andiamo a questo documento, storia del Golfo della Spezia. Allora, innanzitutto vi leggerò un'introduzione che serve a inquadrare questo documento, quindi serve solo a farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, proprio la prefazione del documento recita questo. Allora, durante il trasferimento della biblioteca di Manfredo Giuliani dalla casa della costa di Saliceto a Pontreboli per la sua futura sistemazione, ho rintracciato il manoscritto della storia del Golfo della Spezia, che più della dicitura stampa sul dorso pergaminaceo, la grafia incontestabilmente accerta essere di Baldo Mazzini. Esso era rimasto ignoto agli amici e da coloro che ambivano essere i discepoli del Mazzini, fuorché di evidenza al Giuliani, che mai però ebbe a parlarne. Nemmeno nei molti colloqui dei suoi ultimi anni, quando proprio il Mazzini, le sue opere e le sue ricerche furono in quelli il principale argomento, notizia o d'accenni ad una storia detta Spezia, ugualmente non erano emersi nell'ordinamento degli scritti del nostro, nella biblioteca civica della Spezia, alla quale ritenevamo fossero pervenute tutte le carte di lui. La storia avrebbe dovuto essere narrata in alcuni libri, il titolo infatti suona in testo al manoscritto della storia del Golfo della Spezia, libri puntini puntini, ma la narrazione fu interrotta al termine del terzo capitolo del secondo libro, con la fine cioè del secolo XIV. Del seguito non è rimasto che la sola indicazione capitolo IV secolo XV. Se nell'interruzione possiamo dolerci, dobbiamo di esso valutarne il significato piuttosto che il motivo, perché le notazioni in congiunta o per aggiunte apposte, come ce ne assicura la Pia Matura Grafica, qualche anno dopo la compilazione, sembrano attestare che il disegno non fu decisamente abbandonato ma solamente sospeso. Manca una precisazione della data o del tempo della redazione. Tuttavia le espressioni usate, la intelaiatura del lavoro e la giovanile grafia, accertata su lettere di data certa, vogliono che quella si assegni agli anni poco anteriori al 1895. Di questo anno è una notazione in margine a pagina 89. Le altre in inchiostro rosso sembrano posteriori di qualche anno, e posteriori direi al 1897, anno della fusione della biblioteca comunale con la biblioteca della società di incoraggiamento, cui seguì la nomina del Mazzini a direttore, siccome sembra potersi dedurre dal richiamo a Gasparimassa che gli fu sul bordo superiore di pagina 84. E poi ci sono alcune indicazioni editoriali sulla forma del manoscritto, su cui però non ho intenzione di entrare. Sostanzialmente questo manoscritto è stato edito cento anni dopo la stesura originaria del Mazzini, e questa cosa mi sembra, tra l'altro mi sembra di aver notato che la stessa cosa si riscopre oggi, cioè alcune opere che sono secondo me degne di nota, come ricerche sulla geologia del golfo, per esempio io ho proposto la geologia del golfo della Spezia e l'origine delle sprugole, che sono argomenti secondo me molto interessanti, furono scritti entrambi cento anni fa, e io non ne ho sentito mai parlare più di tanto, non ho mai sentito grande interesse su questa cosa, secondo me vengono riscoperti solo oggi, non so, forse è solo una mia impressione. Il punto è che io vedo le cose dal mio punto di vista, e quindi la vedo in questo modo. Allora, adesso vi leggo quali sono i temi di cui si occupa questa storia del golfo della Spezia, dopodiché andrò al punto che mi interessa di più. A questo proposito, volevo dire che il professor Centi ha fatto nei suoi video, accendo soprattutto al periodo dell'antica Roma, in cui si parlava del Portus Lune, che veniva il roneamento attribuito alla città di Luni, o alla colonia di Luni, che si trova oltre il fiume Magra, quindi all'esterno del golfo della Spezia, e si diceva che il Portus Lune fosse il porto della città di Luni, quando invece tante altre ragioni fanno credere che il Portus Lune sia in effetti il golfo della Spezia. Quindi c'è tutta una lunga parte introduttiva, che parte prima a esaminare quelli che sono gli insediamenti preistorici del golfo della Spezia, quindi le popolazioni primitive che esistevano quindi in tempi preistorici. Dopodiché si parla del periodo romano, con appunto la questione del Portus Lune e l'importanza di Luni, e solo molto dopo si passa a fonti storiche più recenti. C'è una descrizione del golfo della Spezia, quindi una descrizione, se vogliamo, geografica di come è fatta, per arrivare poi ai secoli che mi interessano di più, che sono quelli diciamo del XII-XIII secolo, e quindi stiamo parlando del Medioevo. Sono periodi in cui si assiste a grandi scontri, soprattutto scontri navali, tra le flotte prevalentemente di Genova e di Pisa. Questo è il periodo della contesa tra le repubbliche marinare, che nel terreno settentrionale, quindi nella zona appunto della Spezia, si vede scontrarsi appunto la flotta di Genova e la flotta di Pisa. E in questo documento vengono raccolti degli aneddoti o comunque degli episodi di questo periodo, che a me interessano molto. Quindi prima, piuttosto che occuparmi della parte romana, di cui non sono appunto competente e che quindi lascio ben volentieri al professor Centi, qui voglio leggere solo alcuni episodi appunto di questo periodo, XII-XIII secolo, e poi dire anche qualcosa di oltre per quanto riguarda la fondazione vera e propria della città della Spezia. Perché prima di tutto dovrei forse dire che in questi secoli in cui esistevano già dei borghi come Portovenere, Lerici, per esempio c'è Carpena, Tivegna, no Tivegna forse no, Vesigna, sono tanti paesi che sono sparsi nel golfo e che hanno radici antichissime, quindi sono millenari, ma l'abitato di Spezia, vero e proprio, non è altrettanto antico. Si è affermato solo in seguito. Quindi per tanta parte la storia del golfo della Spezia riguarda queste realtà minori, questi paesi, questi borghi che nascevano lungo le coste, lungo le sponde del golfo, e non la città di Spezia stessa. Adesso vi cerco alcuni passaggi che mi sono particolarmente interessanti. Ecco, questo che vi leggo adesso riguarda una vicenda che vede scontrarsi appunto la flotta genovese, o perlomeno parte delle navi della flotta genovese e quella pisana. Viene riportato l'anno 1120. Avendo i genovesi assalito e depredato molte navi pisane che facevano rotta per la Sardegna, i pisani chiesero replicatamente soddisfazione del danno, la restituzione delle robe tolte e fecero pratiche per la pace. Ma i genovesi negarono ogni cosa, per cui Pisa, armata in poco tempo una flotta, la mandò contro Genova. Le navi partite da Porto Pisano si avanzarono verso Genova devastando la riviera, ma il vento contrario le respinse indietro e si fermarono a Porto Venere. Inteso se ciò in Genova partì subito una flotta contro i pisani. Le dieci galee pisane che erano in Porto Venere appena videro le genovesi andarono al loro incontro, assalindole e perseguitandole per 30 miglia. Ma il vento contrario impedì che le galee si azzuffassero, sicché i pisani tornati a Porto Venere ancorandosi alquanto lontano dal paese per la mancanza d'acqua dolce. Nella notte sopraggiunsero i genovesi con grande apparato di navi e al mattino, mentre si celebrava dai pisani la messa, ricorrendo il giorno di San Sisto, quattro galee genovesi uscirono dal Porto, rincorrendo alcune barchette piene di giovanetti pisani venuti a veder la guerra. Veduto ciò i pisani corsero a prestare aiuto ai loro, mentre le altre navi genovesi usciti dal Porto prendevano il largo. Ingaggiatasi la battaglia, i genovesi ebbero la peggio. Alcune delle loro galee furono prese, altre sommerse, molti feriti e morti, e i pisani, quod mirabile fuit, non ebbero a soffrire danno alcuno. I genovesi superstiti tornarono indietro a proteggere il castello, e i pisani resero lode e gloria a Dio, che tanta vittoria aveva concesso al popolo pisano. E poi dice, in maniera un po' così maliziosa, gli storici genovesi non fanno menzione di questa sconfitta. Come dire che allora c'era anche lì una certa manipolazione, se vogliamo, dell'informazione. Questa è stata una sconfitta danno dei genovesi da parte dei pisani, i genovesi non ne fanno menzione. Questo è un episodio che vede coinvolto appunto il paese di Porto Venere, non è l'unico, come vedremo dopo. Porto Venere era un po', e anche l'Eri, c'erano i due borghi principali, uno chiude il promontorio occidentale, subito di fronte all'isola di Palmaria, e l'altro invece era il più importante, diciamo, borgo del promontorio orientale, quindi erano uno, diciamo, posto all'altro, e venivano spesso contesi appunto tra genovesi e pisani. Adesso volevo arrivare, vediamo un po', ah giusto, questa è una cosa importante, ho parlato appunto di Porto Venere, adesso vi parlo di Lirici. Questa viene riportata come una delle prime testimonianze, uno dei primi, se vogliamo, evidenze dell'esistenza del borgo di Lirici, o perlomeno della località. Allora, vi leggo questo, nel 1152, allora, nel mese di aprile di quest'anno, Uglielmo Garrio e Giordano Bucca, degli uomini d'Arcola, furono investiti di cinque parti del poggio di Lirici, in nome della Repubblica Genovese, che aveva intenzione di costruirvi un castello. E qui riporto una citazione latina, che leggerò meglio che posso, ma non sono un latinista, quindi. Si ianuenses ibi castrum edificaverint, predicti omines d'Arcola debent abere, medietatem de predictis quinque partibus, preter deturre et dominione, et promiserunt eis hoc defendere a omni persona, sub pena dupli, et not debent ibi castrum edificare, nisi per licetiam maioris partis eorum, et peranc investituram feudi de monte illicis, acceperunt a comuni ianue libras, 28, non so leggere il nome in latino, lucenses, et tradiderunt, eis possessionem, et miserunt eos in possessione depredictis, quinque partibus eius de montis, et non debent eis aliquod servizium facere, nisi siipsi ianuam venerint, unus ex eis debet ire, cum eis usque ad sanctum Laurentium, si eis mandaverint actum in burgo portus veneris, mense aprilis 1152, credo. Quindi questa è una, come dire, una testimonianza storica in cui si fa menzione non tanto del borgo di Lerici, ma del monte, viene detto Podium Illicis, che però tradotto in lingua moderna significa Lerici, quindi questa è una prima testimonianza dell'esistenza di questo abitato, diciamo così. Poi si viene parlato appunto dell'etimologia all'origine del nome Lerici, si fa menzione di Petrarca, che pare che abbia effettivamente menzionato Lerici, e si cita esplicitamente questo passo, contraque se dei fortissimum Erix, Erix nome evidentemente arcaico di Lerici. E niente, a cui si fa citazione di un altro passo, qui si parla di Ursone, viene detto precursore del Petrarca, nel suo poema descrive l'invasione della riviera di Levante da parte dei pisani siciliani e altri ghibellini, per ordine di Federico II, e viene indicato Lerici col suo nome in questi versi. E quindi, niente, qui si fa ancora citazione, io avevo detto che non avrei fatto citazione di testi letterari, perché non sono competente, però quando possibile voglio citare le fonti. Ovviamente nel documento di cui sto parlando vengono citate rigorosamente tutti i riferimenti bibliografici, quindi le fonti storiche. Io non sono andato a vederle, mi sono fidato del Mazzini, immagino che siano affidabili. Volevo arrivare, prima di passare a periodi successivi, a parlare di un episodio che a me ha colpito molto la prima volta che l'ho letto. Si parla di un episodio di scorrerie sul mare, quindi sono battaglie navali che non vedono questa volta solo coinvolte le flotte genovese e pisana, ma anche un corsaro, un corsaro trepidicino, questo nome è molto particolare, che non si capisce se sia il soldo dei pisani o dei genovesi. Adesso vi leggerò l'episodio, perché a me ha fatto anche abbastanza sorridere. Allora, innanzitutto vi leggo il contesto, allora, 1165. Si era fatto, l'anno innanzi, per opera dell'imperatore Barbarossa, la tregua fra i pisani e i genovesi, ma i primi la ruppero, catturando alla isola Asinara una nave genovese. L'imperatore mandò il suo cappellano a Pisa per confermare la tregua e per chiedere la restituzione del denaro e della troba tolta ai genovesi. Frattanto, fra il console Ottobuono degli alberighi genovese e il console Pisano e Lemano furono iniziate pratiche prima del paese di San Giovanni della Palmaria, ora scomparso, e poscia in Portovenere. Le cose rimanevano senza alcuna quando nelle acque appunto di Portovenere accadde un fatto che ruppe tutte le trattative e riaccise la guerra. Trovo narrato questo caratteristico episodio nel libro secondo degli annali di Carfaro, in tutti i suoi più minuti particolari, e credo prezzo dell'opera riportarne la traduzione qui, Mazzini cita esplicitamente questo episodio. La galea di Trepidicino entrò in Portovenere, e il console nostro, sperando di fare la pace, gettando sassi, la mise in fuga al disco, e disse ai Pisani, mi duole che questa galea vada in corso, se volete la farò prendere dai legni minuti. E Lemano, console dei Pisani, gli rispose, signor console, Trepidicino è mio parente, e non credo possa offendere i miei, ancorché voi lo vogliate. E se lo vogliate, e se lo farete, io farò venire qua. E il nostro console, fate pure, ma Trepidicino rispose ai Pisani, io ho per sciocchi i Pisani, che mi mandano a chiamare perché vada da loro, andrei se mi chiamasse il mio console. Chiamato dal console genovese, Trepidicino obbedì, interrogato dai Pisani dove andasse, perché, rispose, vado in corso per prendere voi e le vostre robe, per tagliarvi il naso se non fate pace col console genovese. Improverato e anche minacciato dal genovese, Trepidicino rispose che avrebbe risposto il domani mattina circa le sue intenzioni. La mattina dopo, in faccia ai Pisani e i Genovesi, giurava di non continuare le ostilità, ma i Pisani di nascosto mandarono a dire a Pisa che in Portovenere c'era il famoso Trepidicino, il quale non dubitava per nulla di loro, e quindi era facile impadronirsene, con grande scorno dei genovesi e massimo loro contento per essere liberati di un tanto pessimo ladrone. Quindi, qui in un certo senso i Pisani hanno reso la patta, se non vale, ai Genovesi, perché nell'episodio precedente che vi avevo descritto i Pisani avevano vinto, quindi era stata una vittoria da parte dei Pisani, e i Genovesi avevano omesso di dimensionare la cosa. Questa volta invece il corsaro Trepidicino si è in un certo senso attradito i Pisani, a cui doveva essere fedele, e invece i Pisani riportano in patria che dalla parte loro c'è Trepidicino e quindi tutto va bene, non devono temere nulla da parte dei Genovesi. Quindi, questo episodio mi ha fatto ridere, a parte per la risposta del corsaro che dice ai Pisani sostanzialmente non siete voi che dovete darmi ordini, semmai io rispondo al console genovese. Vi leggo, ecco, vi leggo l'episodio che segue, dopo quattro giorni arrivò la galea di Pisa, e presso l'Erici trovò Trepidicino che andava in corso. Questi impaurito prese la via di Portovenere, e giunto si mise a orlare, signor console, voi mi avete fatto giurare fedeltà ai Pisani, ed essi mi inseguono come un nemico, che cosa devo fare? Il console parlò a loro col Pisano, cercando di persuaderlo a tenere a bada la sua galea, ma questi, senza rispondere, salito sul burchio si fece trasportare sulla galea della sua patria, e qui si armò dell'elmo e della corazza. E quando il console genovese si accorse che i Pisani andavano contro la galea di Trepidicino con ostili intenzioni, comandò a questi di volgere la prora contro il nemico, quod Deus odiet era nobiscum. Fatto ciò, il console ottobuono si interpose col burchio fra l'una e l'altra, e comandò alla sua di retrosciare. Quando Elemano vide che la galea genovese tornava indietro, gridò a voce Pisana, fili de male putte, voi fuggite la battaglia, perché queste sono barbe di Pisa. Ottobuono, offeso da quelle parole, comandò forza ai remi, e la galea volò contro la nemica. Il combattimento durò a lungo, e il console Pisano, vedendo che i suoi non la potevano durare più a lungo, si gettò in mare per mettersi in salvo, ma ottobuono ordinò che fosse raccolto nel burchio e portato prigioniero del castello. Quindi per la verità mi sono sbagliato, non era una rivincita dei Pisani perché alla fine ci hanno rimesso loro. Però per dirvi che questi scontri hanno trovato luogo nei nostri territori, cioè nei territori della Spezia, non nostri, non più perlomeno. E secondo me sarebbero stati divertentissimi da vivere in prima persona. Quindi volevo fornirvi qualche altro esempio di questi episodi che vedono scontrarsi da una parte la flotta pitana e dall'altra quella genovese, eventualmente coinvolgendo anche paesi alleati che si trovavano appunto sulla costa. Allora, questo episodio a cui parlo è del 1195. Allora, recita così. I Pisani, nessun conto facendo della pace poco innanzi conchiusa con Genova, edificarono il borgo di Bonifacio in Corsica, e da quello cominciarono a fare nuove piraterie contro le navi dei genovesi, suogandosi in continue ingiuri e vituperi. Bardasse, moglie di viniziani, non abbiate ardile di navigare per lo mare, navigate senza arme e andate come fanno le femmine, che se farete altrimenti vi taglieranno il naso. Ma i consoli genovesi, desiderosi di pace, prima di decidersi a tornare alle armi, cercarono di comporre le cose e chiamarono a taluopo il magistrato dei Pisani in lirici. Ma non potendo aver luogo alcun accordo, anzi accortisi i genovesi di essere presi a capo dai Pisani, tre cittadini, Ingone, Longo, Arrigo Comandino e Ottone Polpo, si offersero di vendicare le offese, e con tre navi grosse, la Calma, la Lama, la Carmaina, la Vinci Guerra, Tre Galee, Tre Galeoni ed altre navi, navigarono sopra Bonifacio, lo assaltarono e le spugnarono, fornendolo di forte presidio. Quindi qui è un episodio in cui evidentemente, come dire, i genovesi hanno reagito a una provocazione dei Pisani e hanno mandato quindi una piccola flotta, tra l'altro un piccolo contingente, a disfare questa fortificazione, questo insediamento di Bonifacio. Un altro episodio successivo. Allora, qui stiamo con la continuazione di un discorso, siamo nel 1210. La guerra continuò con un gran numero di galee, da una parte e dall'altra, che correvano il mare depredandosi scambievolmente. 12 galee pisane si accostarono a Portovenere e cominciarono a dare il guasto al paese. I portoveneresi, unitisi con gli uomini di Vezzano, messi tosto in acqua alquanti legnetti sottili che erano sulla spiaggia, passarono inosservati nell'isola Palmaria e assalirono alle spalle i nemici e ne fecero prigionieri alcuni, tra i quali lo stesso Tegrino, capitano dell'armata pisana, il quale da Guglielmo Scotto, castellano della fortezza di Portovenere, fu scambiato con suo fratello Lanfranco, che era già prigioniero dei pisani. Saputosi in Genova dell'assalto dato a Portovenere, duemila armati vennero in suo soccorso dalla città e dalle riviere, ma tosto tornarono indietro perché i pisani ne erano già partiti. I consoli genovesi, venuti a cognizioni del cambio dei prigionieri, fatto dal castellano di Portovenere, bandirono lo scotto medesimo e li fecero spianare la casa come ribelle. Quindi anche qui sono scorrerie, scorribande per mare che hanno avuto luogo nei nostri territori e qui non so quanto avrei pagato per vedere in prima persona. Ok, continuando con gli episodi, siamo nel 1242. Il 20 di luglio si intese in Genova che l'armata dell'imperatore, quella dei pisani e il marchese Pallavicino, pervenuti a Portovenere, davano il guasto al paese con tutte le loro forze. Lo stesso Podestà si mosse con la flotta contro di loro, i quali, lasciato Portovenere, si erano in quel mezzo portati sopra Levanto, assediandolo per mare e per terra. L'armata nemica, inteso l'avanzarsi del Podestà, fuggì tosto verso Pisa, e il Pallavicino fece lo stesso per terra, ma i Levantini lo rincorsero, facendo molti danni alle sue genti. Il Podestà, lasciato Levanto, si mosse verso Sestri, ma inteso che l'ammiraglio nemico Ansaldo da Mare si era fermato a Lerici con suo figlio Andreolo, che comandava due galee, subito retrocedette contro i nemici, i quali si accostarono all'isoletta del Tino con cento galee, saiettie ed altri legni. I genovisi si fecero loro incontro il giorno 10 di agosto e li misero in fuga, uccidendoni molti e assai facendone prigionieri. Di un tale scontro non ho trovato menzione negli analisti genovisi, ma se ne serve a ricordo in un'iscrizione sincrona, fatta pure dal Podestà di Porto Venere, Pietro di Negro, a sinistra della porta del paese nell'anno stesso. Quindi qua si fa menzione di un altro episodio navale, di un'altra, quanto pare una grande battaglia, perché sono coinvolti i grandi numeri di navi, che è avvenuta a largo delle coste di Porto Venere e delle isole. E si dice, non si fa menzione di analisti genovisi, ma c'è un'iscrizione riportata appunto presso la porta di Porto Venere. Quindi queste cose rimangono comunque anche nella memoria delle persone, o quantomeno nella memoria dei borghi. Allora, andiamo ad un altro episodio. Allora, qui è una continuazione di una storia, è avvenuta nel 1256 e si dice questo. Allora, innanzitutto qui vengono coinvolti anche i lucchesi, perché evidentemente Pisa e Lucca, insomma, avevano delle faccende in sospeso e quindi inevitabilmente vengono coinvolte anche loro. E si dice questo, allora. Mentre i lucchesi guerreggiavano con Pisa, i genovesi, con genti a piede e a cavallo e con 80 galee, entrati nel Porto di Luni, posero l'assedio a Lirici. I pisani avevano edificato presso il castello di Lirici un borgo e lo avevano circondato di fossi e di muraglie. In capo al borgo avevano costruito una porta con due torri, e fra l'una torre e l'altra avevano scolpito un fardello, ossia fagotto, a modo delle valle di panno che sollevano venire di Francia, e sopra di esso avevano incisa un'iscrizione, che è delle più antiche che si conoscano scritte in volgare. Il continuatore di Caffarro le riporta così. Stoppa bocca al zenoese, crepa cuore al porto venerese, strepa borsello al lucchese. Il giustiniano le riferisce con alcune varianti. Stoppa bocca al genoese, crepa care al porto venerese, strepa torsello al lucchese. E si fa un tentativo di spiegazione di quest'ultima parola, dice torselli si chiamavano le balle di mercanzia che venivano di Francia, e l'analista continuatore di Caffarro chiama appunto torsellum la balla in questione. E poi avanza un'ipotesi e dice chissà che secondo la lezione di giustiniani lo strepa torsello non corrisponde al dialettale ligure odierno strepa valle, che vale a dire rompi scatole. In verità io di questo ho dato un'altra interpretazione, ma la mia parola vale quanto quella di chiunque altro, e cioè il significato di questo detto sarebbe come dire stoppa bocca al genoese, vale a dire chiuda la bocca al genoese, crepa cuore al porto venerese, vale a dire divenga un colpo, divenga un infarto, e strepa borsello al lucchese, l'ho intesa così, cioè gli si strappa il borsello, nel senso che perde tutti i suoi soldi, perché notoriamente i lucchesi hanno fama di essere, se non avari, quantomeno un po' legati al denaro, quindi l'ho intesa così come una specie di provocazione nei confronti di queste tre potenze. Per finire volevo riportare due episodi spiacevoli, di devastazioni, comunque di rovina, che sono state portate avanti, diciamo, perpetrate da parte di compagnie di soldati mercenari, o comunque di compagnie di terra, quindi di fanteria, e sono a distanza di circa cento anni l'una dall'altra, la prima nel 1273, e viene riportato questo, allora, Genova non ebbe in quest'anno podestà, e la Repubblica fu governata dai soli capitani del popolo, che erano Berto Spinola e Oberto Doria. I Fieschi e i Grimaldi non possedevano molte castelle, gli uni nella riviera di Levante e gli altri in quella di Ponente. Avevano promesso a Carlo D'Angio, re di Napoli, il dominio di Genova, se li aiutava ad abbattere il partito Ghibellino dei Doria, ed è di Spinola, che in Genova stessa dominava. E infatti un corpo di gente armata in Toscana incominciò a correre e a guastare le coste di Levante in nome di Niccolò del Fisco, che possedeva nella lunigiana genovese i castelli di Tivegna, Vezzano, Isola Carpe, Manarola, Vesigna e della Spezia. Contro questi armati fu mandato un saldo balbo di Castro Vicario, del capitano genovese della riviera di Levante, il quale di Respinse li fece di tirare in Sarzana. Poi gli si mosse dietro Alberto Doria con truppe genovesi, con cui si accozzarono a sestri parecchi cavalli pavesi e fanti lombardi assoldati dal Fisco, mentre il capitano di mare, Squarciafico, muoveva con la flotta da Genova a Portovenere e li spugnava Manarola. Alberto, giunto alla Spezia, ne prese la rocca e la demolì, col ferro e col fuoco, ridusse la città in un mucchio di rovine, il che fu ragione che anche i castelli di Vezzano, dell'isola di Vesigna, di Polverara, di Peverino, con tutto il rimanente che la fazione dei Fieschi possedeva in queste parti, si arrendesse senza colpo ferire. Il capitano, lasciati a Vezzano alquanti mercenari, con una certa quantità di fanti, tornò a Genova con trionfo. Le milizie rimaste a Vezzano, sentito che una gran moltitudine di armati di diverse parti della Toscana, specialmente di Lacca, Firenze, Pistoia ed Arezzo, erano pervenute in Sarzana col reggio Vicario, prese da spavento, si ritirarono in Chiavari. Oberto Spinola, udito ciò, si affrettò con milizie della riviera e fece spugnare Godano, che era tenuto da Alberto Fiesco, conte di Lavagna, parteggiante per Re Carlo. Godano fu preso e presidiato e munito dai Genovisi, e il reggio Vicario se ne tornò in Toscana. Nello stesso anno, i castelli di Beverino, di Polverara, di Vesigna, che erano stati occupati dal capitano Oberto Doria, furono distrutti e rasi dalle fondamenta. Quindi capite che, ancora una volta, questi territori sono trovati nello scontro tra queste due potenze e hanno subito, purtroppo, devastazioni. Un altro episodio, vi dicevo, è di circa cent'anni dopo, e anche qui vedete purtroppo l'azione di una compagnia, questa volta una specie di compagnia di soldati di Ventura. Siamo nel 1365. Allora, Ambrogio Visconti, figlio bastardo di Bernabò, aveva creato una forte compagnia di Ventura con i sussidi del padre e dello zio, detta Compagnia di San Giorgio, composta in gran parte di soldati inglesi e tedeschi. Era questa una di quelle compagnie che nel secolo XIV tanto male fecero all'Italia, e Ambrosio si era messo in animo di dominare con essa la penisola. Mosse da Genova per entrare in Toscana. Peristrada si riunì con Lacuto, altro capitano di Ventura, e insieme si spinsero nel senese, ma trovata una forte resistenza si volsero indietro, e passata la magra assadirono con 5.000 uomini la spezia, messaccheggiano le abitazioni e spogliano gli abitanti. Il 17 dicembre, pochi giorni dopo il sacco della spezia, la stessa banda invase gli omaggiore, facendovi danni infiniti. Gli abitanti di questi luoghi si rifugiarono spaventati in Chiavari. Si pensò tosto in Genova di opporsi con la forza all'avanzare di questi predatori, e il 21 dicembre furono eletti i capitani contro la compagnia del Visconti, Niccolò di Monelli e Bortolomeo di Levanto. Il primo giorno dell'anno partirono da Genova, le milizie spedite sotto il comando dei due capitani. Il giorno 13 vennero alle mani presso la spezia con gli uomini del Visconti, ma furono vinte, e i due capitani fatti prigionieri. La notizia giunta in Genova produsse il gran sgumento. Gli abitanti della riviera, dalla spezia al Visagno, in vasi di giusto terrore, fuggirono alla capitale. Qualche giorno dopo, la compagnia del Visconti, lasciata alla spezia mille uomini, prese la via di Genova. Contro questi mille si mossero animosi, più uomini di Portovenere, che vennero con essi a battaglia nella spezia, e riuscirono a farne i prigionieri cinquanta. In seguito immagino che siano intervenuti altri eserciti per fermare questa sorta di orda, che stava cercando di mettere, diciamo, di conquistare l'intera penisola, ma per quello che mi riguarda voglio solo parlare degli episodi che sono avvenuti alla spezia. E tutto questo è solo per dire quanto, in verità, questi territori, per quanto siano sempre stati marginali rispetto a, forse, le grandi vicende dell'Italia, hanno visto anche qui svolgersi degli scontri non indifferenti, delle battaglie importanti. E volevo anche dire che tutti questi episodi riguardano fino al quattordicesimo, quindicesimo secolo, c'è qualcosa sul quindicesimo secolo, dopodiché c'è la vera e propria istituzione di spezia come entità indipendente, perché fino a quel momento era sotto la podesteria di Carpena o altri paesi limitrofi. Dopodiché una compagnia di persone, diciamo, di rappresentanti ha fatto richiesta alla Repubblica Genovese di riconoscere appunto l'identità della spezia, in quanto anche l'abitato stava cominciando a crescere. Dopodiché si è provveduto a costruire una fortificazione, nelle mura, eccetera. Però, come si diceva all'inizio, il documento del Mazzini è incompleto, perché non tratta della storia fino ai suoi giorni, perlomeno. Essendo il Mazzini della prima, anzi, seconda metà dell'Ottocento, quindi inizio Novecento, non c'è menzione delle guerre mondiali, ma tanto sappiamo che la Spezia è stata anche molto colpita dai bombardamenti durante le guerre, ma questa è una storia molto più recente, di cui qui non si fa ovviamente menzione. E niente, con questo concludo questa parte, poi volevo accennare anche un altro episodio, che è avvenuto in tempi storici, che però ha poco a che fare con questo, quindi ne parlerò separatamente. Bene, l'ultimo episodio di cui volevo parlare non è esattamente un episodio storico, che riguarda quindi la storia del Golfo, della Spezia o dei territori circostanti, ma è un episodio che è, come dire, quasi una leggenda, e si tratta dell'Anfiorama, il cui titolo completo, diciamo, il cui nome completo sarebbe Anfiorama Ule Vaudumonde, sarebbe la visione d'insieme di tutto il mondo, è un episodio che è stato raccontato da François Trafford, che era un naturalista, diciamo, in verità era una persona di origini nobiliari, di padre, se non sbaglio inglese, madre italiana o viceversa, che aveva soggiornato presso il Golfo della Spezia nel 1869. E aveva, era salito sul Monte Castellana, che è uno dei monti del Promontorio Occidentale, aveva raggiunto la vetta, che è a altezza di 500 metri sul livello del mare, e a sua detta, a suo racconto, dall'alto della vetta, in quella particolare occasione, che credo fosse primavera o periodo vicino a Pasqua, ha avuto una visione del mondo intero. E viene raccontata in questo libro, che si chiama Anfiorama Ule Vaudumonde, che è la data in cui lui ha avuto questa visione, il 1869, ma lui non l'ha pubblicato prima di molti decenni, per ragioni di credibilità o comunque di reputazione, perché credeva che sarebbe stato, diciamo così, sbugiardato, cioè nel senso che la gente l'avrebbe preso di mira, l'avrebbe criticato per una, evidentemente una fantasia, un'illusione, una allucinazione, e quindi lui l'ha tenuto per sé finché non si è deciso a pubblicarlo. Il racconto della sua visione del mondo consiste in questo, lui dice di essersi recato sulla scena di questo monte, probabilmente in una mattina di questo giorno di primavera del 1869, e ha spinto lo sguardo all'orizzonte. Dopodiché quello che è successo è che lui ha potuto vedere più lontano di quanto le normali leggi dell'ottica potrebbero permettere, non solo arrivando a vedere, non so, posti remoti della penisola che sono oltre l'orizzonte, ma addirittura vedendo luoghi che appartengono al di là del bacino del Mediterraneo fino a vedere l'intero mondo, in una maniera che lui descrive come una visione telescopica, cioè lui potendo focalizzare il suo sguardo in una direzione poteva ingrandire a piacimento i dettagli. Io non ho con me il testo, l'ho letto, ma non l'ho qui con me per potervelo mostrare, io vi racconto quello che ho letto a distanza di anni, diciamo, quindi spero di ricordarmelo, ma un episodio che lui racconta è quello di aver notato, una nave che navigava sul Mediterraneo e credo all'argo del Golfo di Genova o comunque nel Mar Ligure e dice di essere riuscito a riconoscere, quantomeno da fisionomia, l'aspetto del capitano e evidentemente si trattava di una nave che navigava molte centinaia di chilometri da lì, quindi in nessuna condizione sarebbe potuto avvenire una cosa del genere. Poi racconta le coste di paesi lontani e addirittura racconta l'aspetto delle coste dell'Artide, quindi il continente artico che lui dice di descrivere per la prima volta. Quindi il suo racconto aveva anche uno scopo scientifico in un certo senso, lui voleva fornire dettagli su un continente o comunque una terra che nessuno aveva mai visto e che lui aveva potuto vedere in queste circostanze del tutto eccezionali. Lui tra l'altro era un naturalista che è quello che noi chiameremo oggi uno scienziato e però non riesce a spiegarsi la visione, cioè come sia potuto avvenire, solo in seguito, dopo aver pubblicato l'Anfiorama, racconta che questa sua visione sarebbe stata dovuta all'occorrenza, diciamo la coincidenza che in quel tempo passasse una cometa vicina alla Terra e lui aveva potuto sfruttare chissà qualche maniera la presenza di questa cometa che gli aveva fornito qualche prospettiva strana, però ovviamente non ha nessun senso, non c'è nessuna spiegazione. Ancora oggi non si sa che cosa abbia visto Trafford, evidentemente non è un merito di nessuna cometa che possa fornire questo genere di fenomeno, la descrizione che lui fornisce del continente artico non corrisponde alla realtà, quindi se lui abbia davvero visto qualcosa non è evidentemente l'Artide e niente, ovviamente non si possono verificare la questione della nave che lui avrebbe visto a centinaia di chilometri dalla costa, perché non ci sono cronache così dettagliate da poter ricostruire questa storia, però la questione è molto interessante, quantomeno per il fatto che lui dice che questa visione è durata per diverse ore, durante la quale lui ha potuto guardarsi intorno, girare lo sguardo di qua e di là e focalizzando lo sguardo in una direzione poteva zoomare, per così dire, e vedere dettagli che non potevano essere visti altrimenti. Ora, questo naturalmente è una cosa che va giudicata con gli occhi del tempo di oggi, quindi le conoscenze che abbiamo di oggi che escludono la possibilità di un fenomeno del genere, però rimane comunque un elemento folcloristico, culturale interessante che riguarda le nostre zone. Tra l'altro, Trafford suggerisce che se questo episodio fosse proprio peculiare di questo monte, lui suggerisce di costruire lì una stazione meteorologica o un punto di osservazione, perché dove meglio di quel posto si potrebbero avere appunto una visione insieme dell'intero mondo, e lui suggerisce questo. Oggi in quel posto si trova una fortificazione militare, quindi non è possibile salire, raggiungere appunto la cima del monte, se non probabilmente rimanendo al di fuori di questa fortificazione, in un periodo, di un perimetro limitato. La versione che io ho lessi dell'Anfiorama è un'edizione della casa editrice, piccola casa editrice, che si chiama Altare del Sole, e questa è stata curata da Jonathan Ferroni, è un'edizione del 2010, che però non so se sia più in produzione, in stampa, quindi purtroppo temo che non sia più possibile procurarsela. Purtroppo non posso neanche fornirvene una versione digitale, perché a quanto ne so non esiste. Quindi niente, ve l'ho solo voluta proporre come ulteriore curiosità per quanto riguarda la storia del golfo e le sue caratteristiche. E niente, con questo concludo, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando la spezia caput mundi.